Io leggo perché i libri sono il nostro guerriero, sono la nostra armatura, quello che ci portiamo di fianco nella vita, sono il posto in cui imparare la magia, in cui imparare le emozioni. Io ho imparato le emozioni e la magia attraverso i libri, nessun altro ha mai saputo spiegarmi altrettanto bene e ci sono momenti nella vita in cui senza emozioni, senza magia non si riesce ad andare avanti. Io leggo perché. Grazie a tutti.